Ogni persona, ogni luogo ha la sua storia, senza di essa non vi è identità, non v'è passato e non v'è futuro. Queste le prime frasi del libro Acerenza racconta tra realtà e fantasia, una fiaba moderna per narrare la storia e le tradizioni di una cittadina ricca di misteri da raccontare, storie di templari, magnificenza e quotidianità. Protagonista della favola, incentrata su una caccia al tesoro, è una lucertolina verde che si infila nella cassetta di legno per la posta e che viene utilizzata per svelare i misteri antichi di Acerenza. Il libro contiene inoltre delle rappresentazioni grafiche e opera dei bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Per la realizzazione del volume è stato inoltre fondamentale l'incontro con lo scrittore Marcello Argilli, che ha contribuito ad accrescere la curiosità delle insegnanti riguardo alla fiaba moderna, nella quale si accomunano cose, persone, realtà concrete ed elementi immaginari, tutte componenti che permettono ai bambini di spaziare nella realtà del proprio tempo e nella fantasia, elemento essenziale della loro età. Grazie a tutti.